Dopo tanta attesa, i nostri appelli e le sue esitazioni, finalmente il passo indietro è arrivato. Carmine Pallino lascia Fondazione Molina dopo quasi due anni di guida nelle vesti di commissario straordinario. La conferma è arrivata per il suo stesso pugno in una comunicazione ufficiale alla TS Insubre in cui Pallino ha formalizzato le proprie dimissioni. Certo, parlare di dimissioni suona strano. In fondo Pallino è un commissario straordinario, cioè un pubblico ufficiale. Il suo incarico in realtà decade automaticamente nel momento in cui arriva il nuovo consiglio d'amministrazione. Però non ci stupisce perché il dottor Pallino in questo periodo ci ha abituato a dei comportamenti più simili a quelli di un amministratore delegato che non a quelli di un commissario straordinario. Comunque tant'è Pallino che a lungo ha dominato il Molina, l'uomo di Maroni che in più occasioni anche di recente ha ribadito l'intenzione di restare ai vertici dell'ente fino al 2020, si prepara a lasciare via le borri. Lunedì è previsto l'insediamento dei nuovi vertici, cioè del CDA guidato dal neopresidente Guido Bonoldi, affiancato dai consiglieri Fernando Fasolo, Barbara Cirivello, Orlando Rinaldi e Anna Zanetti. Ancora presto però per parlare di un nuovo corso. In fondo l'eredità Pallino è ancora ben visibile nelle scelte che ha compiuto, nelle assunzioni e nelle nomine che ha deciso a cominciare da quella di Andrea Guastoni, il direttore di Fondazione Molina e il figlio di Antonio Guastoni che, come abbiamo più volte ricordato, siede in due collegi sindacali di altrettante società partecipazione pubblica insieme a Carmine Pallino. Dunque vedremo come si muoverà in tal senso il nuovo consiglio d'amministrazione, se le sue scelte saranno improntate alla continuità oppure alla vera e propria svolta. Nel frattempo, buon lavoro.